Credete, mi sono sommerso dalle vostre segnalazioni e mi fa piacere, perché vuol dire che avete fiducia in me e io nel mio piccolo cerco di raccogliere queste segnalazioni, di fare delle denunce pubbliche e poi di andare a portare il problema nelle sedi comunali competenti. A gran richiesta, a gran voce, mi viene sottolineata la situazione incredibile che c'è qui in via speziale, siamo al quartiere solito Corvisea, quindi nelle adiacenze, percorrendo la strada, non la strada che poi porta al carcere e vedete qui da anni, da anni non da mesi, giacciono queste transenne che delimitano un'area che è sprofondata, tanto sprofondata che, vedete, si è creata proprio la conca e quindi con la pioggia che occupa, riempie la conca e crea un laghetto. Uno sprofondamento importante che diventa particolarmente pericoloso per le auto e i mezzi che passano, anche i mezzi pesanti. Ecco, guardate, mentre noi stavamo realizzando il servizio è passato un bus, quindi pensate, i bus e i camion che passano, nel momento in cui potevano andare ad impattare una realtà del genere, ovviamente c'erano e ci sono ovviamente dei rischi enormi. Ma la cosa assurda è che questa situazione non è stata mai né affrontata né risolta dall'amministrazione Melucci negli anni, già a partire dalla scorsa consigliatura, già dal primo mandato di Rinaldo Melucci. Cioè non è possibile che qui, come al solito, c'è il solito modus operandi, arrivano i vigili urbani, come è giusto che sia, la polizia locale mette le transenne, mette, guardate, la cartellonistica, qui è caduto a terra, guardate un po', non si vede più, ecco qui, che indica appunto, lo rimettiamo in piedi, che implica appunto, fa capire che la zona ovviamente è interdetta e quindi bisogna ovviamente passarci intorno e non ovviamente passarci da sopra, ma poi le transenne con l'incuria, col vento, con gli anni cadono e rimane tutto abbandonato. Da anni, questa situazione così da anni, guardate, è molto importante, vi ho detto prima il pomo, ora guardate un altro bus che passa e quindi si crea anche un problema proprio di transito, l'autobus deve restringersi nel suo percorso, ma al di là di questo non è ammissibile che una situazione del genere giaccia così, abbandonata, abbandonata negli anni. Allora, parlando di questa consigliatura, noi abbiamo avuto Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici, nulla, nessun intervento, guardate, abbandonata era e abbandonata è rimasta. Ora, Mimmo Ciraci, assessore ai lavori pubblici, abbandonata era e abbandonata arrivata, ma così si amministra Taranto. Questa è una città del terzo mondo e guardate qui i bus circolano uno dietro l'altro, guardate, c'è un altro, questo è il 3 Park Cimino, guardate, un altro bus, cioè una zona, non è una zona isolata, dispersa e disperata che nessuno calcola, nessuno considera, ma viva Dio, è normale che in un'area maledettamente transitata da bus, da bus, vedete lì c'è anche la fermata, la vedete lì in fondo, guardate, un'area altamente trafficata debba giacere nell'abbandono più completo, completamente ignorata, dimenticata, tanto che se ne fotte l'amministrazione Melucci, i lavori pubblici ragionano in questa ottica, c'è lo sprofondamento, metti la transenne e poi chi si è visto si è visto, questo è il modo di operare dell'amministrazione comunale e dobbiamo dirlo anche del settore lavori pubblici, degli uffici tecnici, perché qua dobbiamo incominciarcela a prendere pure con gli uffici tecnici, non solo con gli assessorati, perché gli uffici tecnici sono l'organo, il braccio operativo dell'assessorato che è la figura politico-amministrativa, gli uffici tecnici come si giustificano? C'è una segnalazione, c'è una situazione di cui loro sono venuti a conoscenza, perché non è che non lo sanno, lo sanno benissimo, benissimo lo sanno e proprio perché lo sanno hanno fatto transennare, nulla, la strafottenza, il menefreghismo, quando io dico che l'amministrazione Melucci se ne strafotte di Taram, se ne strafotte, questa è la prova provata, perché significa solo strafottersene, non fregarsi niente dei cittadini, in maniera lavativa, superficiale, vergognosa, ripeto, si mette la transennia, arrangiatevi boh, io il dovere mio l'ho fatto, poi passano gli anni, pioggia, vento e roba varia, addirittura qui guardate, l'indicazione era sommersa, io l'ho dovuta riportare alla luce, era sommersa, era coperta dal peso delle transennie, peraltro cadute, immaginate poi la sera col buio quello che succede, signori vi rendete conto da chi siamo amministrati, vi rendete conto da anni e prima del 2022 quando è sventuratamente ritornato Melucci alla guida della città, sempre Melucci è stato per 4 anni e mezzo, non è che stava lo Spirito Santo, incapace politico amministrativo era e incapace politico amministrativo è, lui è tutta la sua giunta, la sua maggioranza, la sua corte dei miracoli, anzi la corte del degrado. Grazie a tutti! Grazie a tutti!